E oggi buongiorno da Giammi, sono venuto a svegliarla Giulia perché la Marghe mia sorella è andata al Gardaland con sua sorella e quindi sono svegliato questo e sono andato molto tardi e quindi sono venuto a portare mia sorella e sono rimasto qui Ora giriamo un videtto magari perché sarebbe bello girare un videtto per Giulia e Giammi ovviamente e vediamo se riusciamo oggi a farci arrivare questo regalo che mi è ancora arrivato Che succede? Cosa dici tu? Ma dove stai andando? Eh peppoide Io comincio a fare il minestrone qua perché non manca proprio tanto Che ne ha le luci Dov'è in frigo? Sì in frigo Dimmi Giulia Arrivo Ve lo giuro che non sono tutte perché saranno la metà Abbiamo appena fatto un mega video Sulla collezione di scarpe Sulla collezione di scarpe di questa bisbetica Sì ma in realtà tipo non ho messo gli stivaletti Vabbè non ce ne frega niente Sono un mucchio di scarpe Abbiamo dovuto fare un video per ogni paio di scarpe Abbiamo fatto 60 video Mi hanno appunto le zanzare ovunque Lo vedete? E questa è solo la caviglia Uno due tre quattro ok? Hai la caviglia succulenta Dappertutto No io voglio dire una cosa Allora mi dispiace tantissimo per i vlog se arriva in ritardo Ma ho un problema serissimo a computer Non compratevi un macbook No compratelo Non compratevi un macbook Ma non so perché non riesce a salvarmi i video Perché ha computer di E poi mi dice che non riesce ad aprirli Quindi non Sei una pippozza Sei una pippozona Sei tu che non riesci a risolvere Adesso guarda come faccio lo stacco di questo video Eccoci qui di nuovo Abbiamo mangiato Sai quanto hai speso della telefona di stamattina? 3 euro Cacchio Ha chiamato l'199 E abbiamo mangiato Già Maria ha fatto il minestrone E io sono andata a fare il massaggio Lui l'ha mangiato Poi sono arrivata E ho detto Ho assaggiato il minestrone E ho detto Già mi guarda che Questo minestrone è andato Cioè è andato a male Perché Boh Non so dire perché Lui si è mangiato il minestrone E gli è andato a male Vabbè Vabbè Ti fa solo che bene Ero maggiore la pesca Buona Ciao ragazzi Allora Per oggi sto pancia all'aria Così ho voglia Oh che spissa Chiudi un attimo legame Però Peppina Sei un po' folgare Niente ho mangiato Adesso ho la pancia piena Ho la pancia Ho la pancia piena Faccio un sacco di puzze E mi faccio baggiare Però ricambio sempre Oggi cos'ha che sta sempre a pancia all'aria Mai nella sua vita è rimasta a pancia all'aria Oggi si Il gelosone Che sta in disparte Gelosone Gelosone Ma quando ti piacciono le coccolone a te Eh Da che entico il video Ha dei riscontri E ha un sacco di riscontri Si Che ti dà Sime stazioni Dove stiamo andando Dove stiamo andando Dove stiamo andando Dove stiamo andando Stiamo andando No Decidi di fermare Me lo faccio portare domani Dai Non ho voglia di sprecare benzina Vabbò Cazzo ce la fai No Stiamo andando Ok Stiamo andando a prendere A prendere No dai L'obiettivo nuovo L'obiettivo nuovo Perché Quei cazzoni di FedEx 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 Ovvero Federal Executive Che sono suoi Best friend Ho sputato sul vetro Aspetta Che sono suoi Come si dice Best friend con nazionali Dai no Paglia Con nazionali Esatto Sono dei pagliaccioni Che stamattina Dobbiamo fare Draw My Life Stamattina Dopo averci fatto spendere 3 euro Chiamando un 899 199 Fortuna che l'abbiamo fatto 3 euro Se no erano capri Ci chiamano adesso Signorina Cillo E lei Si Guardi Abbiamo avuto Un problema per strada O il pacco se lo viene a prendere Lo portiamo domani E ovviamente E ovviamente Lo stiamo andando a prendere Andiamo a prenderlo Com'è che ti hanno chiamata? Maria 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 Callas Bozo Tutti i semi Bene dai Faccia prima Faccia prima Non so se hai visto che sta prendendo fuoco Un albero Faccia prima Giammi Mi è caduto Tanti auguri Faccia Fai vedere la faccia Non scappare Prego eh Mi sono realizzato Faccialo dopo No Strapa tutto Ma sono pezzi di merda Ma come posso? Ok Primo step Ho caldo Ho caldo A chi ho caldo? Chiavi Chiavi C'è scritto per canon Bene Bene Allora Devi sbagliare Ben bello per Nico Si esatto Stava meno per Nico Oddio Oddio Ce l'hai? Ma quanto grande è questa roba Zia Maria C'è No dai Oh Cristo Come? Oh Cristo Togli i paralucce No no Il paralucce lo tengo C'è Oh mio Dio Sì Abbiamo una bistecca E Un coso Perché questa stessa Devo mangiare A carne Sai signorino Ecco Devo anche mangiare La carne Ah beh È un minimo Ciao ciao Questo è un'altra Solo per mangiare Il sidrone della Nicoletta Solo per Mangiare il minestrone La Nicoletta Butta bastarda Adesso vai anche via Sì no Mangi il minestrone Poi vado via Oggi me l'hai fatto mangiare Scaduto Ah 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 Il minestrone Me l'ha fatto mangiare Andato a male Cazzo Ma cavolo Ma scusa Ma ti fai un paio di domande Se era anzi Ma ho detto Chissà che minchia Ci ha messo dentro questa Eccoci Allora abbiamo Mangiato il minestrone E adesso Stiamo a trovare I nostri amici Però dobbiamo fare Di saluti prima Allora io volevo Salutare Stefano Ciao Stefano E volevo ringraziarti Perché vedo che Ogni volta Su Giulia Giammi Su Facebook Su Instagram Ci segui E ci metti mi piace E quindi So chi sei Più o meno Quindi ciao Tu ti saluti Saluto Giulia Ciao Giulia E ciao un'altra Giulia E tu ti saluti Io saluto Ciao Giorgia Grazie Che ci hai iscritto E che ci segui Lo apprezziamo Un sacco Veramente E tu che devi salutare Non mi senti indicata Ah Lucrezia Ciao Lucrezia Un bacione Ciao ragazzi E con questo concludiamo E andiamo a giocare All'Xbox Perfetto Momento saluti finito Dopo faremo la buonanotte Ciao Ok allora Siamo tornati E Beh Nike Puoi salire sul lettino E io mi sto preparando Per la nanna Gianmi è già andato a casa E Ci dobbiamo salutare altre tre persone Scusate Ormai Stanno mettendo un vlog Solo di video Se Saluti Allora Ci dobbiamo salutare Elisa Ciao Eli Elena Ciao Elena Mi piace molto il tuo nome Perché la stessa mia sorella E Marco Ciao Marco Bene Detto questo Vi do anche la buonanotte A tutti E Vi mando un mega bacio Domani Cosa vedermi presto Mi sa Perché Ho permesso già a me Che lo avrei accompagnato A fare una pausa Che domani vedrete E Hasta Buonanotte a tutti Ciao Ciao Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Sì Ciao uito